Ciao a tutti, oggi siamo qui con la mia macchinina telecomandata. Come vedete una volta era oro, ma adesso l'abbiamo fatta del mio colore preferito e personalizzata. Adesso montiamo la macchinina, stiamo caricando le batterie, che almeno oggi pomeriggio facciamo le prove. Le gomme le abbiamo già usate più volte, come vedete è rotta qui. Vediamo se durano fino a stasera. Oggi andiamo a fare andare la macchinina giù a un piazzale e vediamo se tengono le ruote. Qui c'è il telaio, qui ci sono le molle degli ammortizzatori e qui c'è il motore. Volete sapere quanto va? Lo scoprirete stasera. Qui ci sono i dadi per attaccare le ruote. Adesso facciamo il montaggio. Adesso che ci sono montate le ruote, montiamo la carrozzeria. Che notizie se andiamo a provarla insieme? Per le nostre prove di oggi abbiamo scelto questo piazzale provvisorio. Adesso colleghiamo il telecomando alla macchinina. Adesso facciamo un po' di test. Buon divertimento! Adesso facciamo un po' di test. Adesso facciamo una prova di accelerazione. Adesso facciamo un po' di test. ... ... ... ... Grazie a tutti. Ecco la macchinina dopo un'ora di prove. Come vedete è un po' danneggiata perché l'abbiamo picchiata molte volte. Adesso togliamo la carrozzeria per vedere come è dentro. Come vedete è tutta sporca. La gomma di prima ha tenuto. Qui è un po' rotto il cerchio perché l'abbiamo picchiata tante volte. Qui è una vite che dobbiamo avvitare però adesso è come un chiodo perché si è appiattito. Anche questa. Adesso togliamo un po' la macchinina. Adesso togliamo le ruote e dopo puliamo ancora un po' la macchinina. Adesso togliamo le ruote. Grazie. 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 Guardate quanto sporco c'era dentro. Adesso vi spiego che come si usano. Queste qui sono le slick per asciutto. Queste sono le semi slick per quando è umido, poco bagnato o freddo e queste qui sono quelle da bagnato. Adesso che abbiamo pulito il telaio e la nostra carrozzeria per le prove vediamo come sta con altre carrozzerie. Questa qui è la nostra macchinina. Questa qui è la nostra macchinina con la carrozzeria GT2 originale e le gomme semi slick. Questa è la nostra seconda carrozzeria GT2 con le gomme da bagnato. Questa è una delle mie carrozzerie preferite, è la Porsche GT1. bello vero? Spero che il mio video vi sia piaciuto. seguitemi sempre. Ciao a presto su Jordan Channel.